Daniele mi ha scritto se mi registro video mi blocco mentre se non ci penso e faccio cose diciamo un po' più casuali come mi vengono vengono fuori anche cose molto più carine rispetto a come quando mi registro. Mi ha chiesto qualche consiglio cosa succede come faccio a ovviare a questa cosa del fatto che ogni volta che accendo la telecamera mi blocco sbaglio eccetera eccetera ok questo mi sembra un ottimo argomento da approfondire soprattutto per il fatto che prima di tutto è fondamentale per voi perché dovete fare i video per darmeli da vedere così io vi do il feedback. È sicuramente un aspetto sottovalutato da troppe persone nel senso che si tratta sempre in modo banale questo argomento qua invece è qualcosa di molto profondo e si può vedere in modo molto dettagliato. Io adesso vi posso dare un po' di consigli di come io ho lavorato su me stesso perché ovviamente io questo argomento l'ho ovviamente studiato, osservato, cercato di risolverlo molto dato che io stesso faccio video e mi trovo davanti a queste difficoltà ovviamente. Quindi adesso andiamo a vedere come affrontare l'argomento per risolverlo quello del fatto di accendere la telecamera e sbaglio. Ciao strimpellari cosa state per vedere in questo video? Ogni mese faccio una lezione in live streaming con i miei studenti del corso base, quello per partire da zero. La lezione si tiene all'interno di un gruppo facebook privato dove gli studenti possono confrontarsi tra di loro, ricevere feedback da me sulle loro esecuzioni, mandare foto eccetera eccetera. Quello che stai per vedere in questo video è un breve estratto di una di queste live che spero possa esserti di aiuto anche a te. E quindi non mi resta che augurarti una buona visione. Prima di tutto concetto generale. Cosa succede quando sbagliamo, quando ci inceppiamo di fronte alla telecamera? Io ho raggruppato diciamo sei motivazioni principali per cui questa cosa succede. Ognuno di voi probabilmente si ritroverà in una fino a quattro di queste motivazioni. Quindi quello che dovete fare è capire qual è la vostra causa per cui si scatena questo problema di fronte alla telecamera e ovviamente cominciare a lavorare su quello. Ovviamente io vi darò sia le motivazioni sia i rimedi. Vediamo quali sono queste motivazioni. Allora la prima è perché non riuscite a separare quello che è l'esercizio dall'esecuzione. Cosa vuol dire? Ne ho parlato anche in alcuni video di questa cosa qua. Praticamente bisogna cercare di capire che quando andiamo a fare un esercizio, quando stiamo facendo esercizio tra di noi, stiamo facendo qualcosa e ci stiamo impegnando per migliorare su certi aspetti, ovviamente la nostra mente è improntata a Ok, questa cosa la devo far bene, qua devo fare così, qua devo fare colà, eccetera, eccetera. Quando però dobbiamo fare un'esecuzione, quindi non stiamo facendo un esercizio, non stiamo cercando di migliorare ogni singolo aspetto perché ci stiamo esercitando su quella cosa, ma stiamo facendo un'esecuzione, esempio, devo fare, cioè devo far vedere che faccio un brano su un video, ok, per mandarlo a me, per farmi vedere dove sbagliate, eccetera, eccetera. Quando fate un'esecuzione, quindi quando state suonando, non quando vi state esercitando, quando state suonando, non dovete pensare ad ogni singolo aspetto di quello che state facendo, semplicemente dovete fare e basta. Dopo andiamo a vedere comunque come rimediare, ma di fatto è questo, è un po' una questione un po' mentale, quindi una motivazione è non riuscire a capire questa differenza, cioè tra l'esercizio e l'esecuzione, ok, dove l'esecuzione, anche se si sporca qualche nota, va bene, lo stesso l'importante è fare, ok, e trasmettere il messaggio. Quando invece stiamo facendo l'esercizio, ovviamente dobbiamo stare attenti a tutto perché dobbiamo cercare di essere, di migliorare il più possibile, più aspetti possibili, di migliorare il suono, il tocco e tutto quanto. Quando andiamo a fare l'esecuzione, quella che è stata la preparazione serviva per fare l'esecuzione senza pensare a tutte queste cose, quindi bisogna prepararsi prima per non pensare niente poi. Seconda motivazione, la vostra mente quando fate rec pensa a tutti gli aspetti della registrazione, quindi magari io sto facendo qualcosa, sto registrando qualcosa che devo suonare, ma mentre suono penso se la telecamera è tutto ok, l'inquadratura va bene, cosa penseranno le persone che guarderanno il video, tutte queste cose qua. Terzo, è una cosa un po' meno carina da sapere, ma la terza motivazione è che può essere che il tuo livello sia esattamente quello. È brutto da sentirselo dire, ma quando ci registriamo ci diamo la possibilità di ricominciare, di rifare, eccetera. Anche quando siamo da soli, ovviamente, quando stiamo facendo delle prove, eccetera, proviamo una canzone, magari sbagliamo qualcosa e ricominciamo da capo. Quel ricominciare da capo è lo stesso che magari quando accendiamo la telecamera, ricominciamo, rifacciamo, no, perché c'è l'errore, ok, tutte queste cose qua. Ma probabilmente in realtà senza la telecamera il livello sarebbe stato comunque quello, cioè avremmo sbagliato lì, avremmo sbagliato di là, solo che magari dato che ci stiamo registrando cancelliamo tutto e rifacciamo, ok. Potrebbe essere che il livello della persona che sta registrando è effettivamente, cioè vi state lamentando che non sta venendo fuori bene, non capisco perché davanti alla telecamera, può essere che in realtà è esattamente così, ok, anche al di fuori della telecamera. Solo che al di fuori della telecamera voi mentalmente vi date seconde chance, quando siete davanti alla telecamera, quello ha registrato, quindi lo cancellate e rifate, ok. Quarta motivazione, magari la postura di quando provate, cioè tipo magari provate così, provate con questa postura, poi telecamera, mi metto così, alzo la gamba, eccetera. Può essere che il cambio di postura voglia dire che non riusciate più a fare le cose che facevate prima, quindi bisogna chiedersi se la, cioè, la postura di quando registrate è esattamente la stessa con cui fate gli esercizi, perché se non è la stessa potrebbe esserci un problema. Numero 5 potrebbe essere un problema caratteriale che siamo troppo perfezionisti, che è una cosa bella da certi punti di vista, ma in questo caso potrebbe essere un bel, un bel grattacapo da cercare di ideellare. Sesta motivazione, siccome sai di poter rifare l'esecuzione, già solo questa cosa ti mette nell'idea di fermarti magari al minimo errore. Ah, c'è un piccolo errore? No, 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 via, rifaccio tutto. Questa cosa, se fosse una live, non potreste rifarla, perché quella è l'esecuzione, quindi le persone vi stanno guardando in quel momento, e magari se avete fatto un errore cercate di coprirlo, ovviamente, continuate, eccetera. Quando invece siete davanti a una telecamera e sapete che potete rifare l'esecuzione, la rifate al minimo errore. Vediamo i rimedi, quindi, velocemente. Rimedio per la prima motivazione che era che non riesci a separare la mentalità dell'esercizio con la mentalità dell'esecuzione. Intanto è difficile, perché si tratta di un inganno della mente. Quando si tratta di robe pratiche è un conto, quando si tratta di cose mentali ovviamente è molto più difficile risolverle, ok? È più lunga la questione. Però di fatto bisogna cercare di dimenticarsi della perfezione e del miglioramento di quello che in quel momento stiamo facendo e invece pensare all'intenzione, a quello che stiamo facendo e di portarlo a termine, ok? Quindi dimentichiamoci quello che pensavamo durante l'esercizio. Nel momento dell'esecuzione bisogna dimenticarsi di tutto questo, è fare e stop, andare dritti e suonare, ok? La seconda motivazione era, la tua mente pensa agli aspetti relativi alla registrazione, quindi ci distraiamo perché pensiamo alla telecamera, ma sarà messa giusta, ma cosa penserà a chi è? Ok, anche questo è sempre difficile perché ovviamente si tratta di una cosa mentale, però la cosa che si può fare in questo caso è iperpreparare a livello tecnologico tutto quanto in modo che sia tutto a posto e voi dovete solo pensare a suonare, ok? In questo modo se avete tutte le cose messe a posto ancora prima non dovete pensare ad altro e pensate a suonare e basta, ok? Poi la motivazione numero tre era che il tuo livello potrebbe essere effettivamente quello. Per quanto riguarda questa motivazione qua, vi consiglio di controllare se effettivamente è così facendo questa prova. Accendete la telecamera all'inizio della vostra esercitazione e la lasciate andare per tutto il tempo, cioè se studiate un'ora iniziate al minuto zero e chiudete quando mettete la chitarra nella custodia. Riguardando quell'esercitazione potete vedere quante volte effettivamente è fatta un'esecuzione tutta buona. Se non c'è mai un'esecuzione veramente tutta buona senza minimo errore, allora forse siete voi che volete fare la registrazione più perfetta di quello che in realtà è il livello. L'utilazione numero quattro è la postura che magari è diversa, quindi controllate che la postura sia la stessa. In caso piuttosto state nella posizione che avete avuto durante l'esercitazione e cambiate la posizione della telecamera invece di cambiare voi, ok? Per quanto riguarda l'essere troppo perfezionista non c'è molto da dire perché è molto dura. Se uno è così caratterialmente bisogna lavorare su se stessi, ma è una cosa molto lunga, ok? Per cercare di smollarsi un po', però di fatto non è neanche una cosa negativa essere perfezionisti, quindi dipende dai casi. La motivazione numero sei era assai di poter rifare l'esecuzione, quindi in questo caso puoi semplicemente non darti una seconda chance, cioè dal momento in cui volete fare il video semplicemente dite avrò solo due take per fare il video, poi fine, oppure una sola take per fare il video, poi fine. Quindi mi preparo molto meglio prima, poi così quando sono davanti alla telecamera accendo, faccio, fine. stop e non c'è una seconda chance, ok? Bene, quindi spero che questi consigli possano esservi di aiuto e spero di vedere più video all'interno del gruppo proprio perché abbiamo risposto a questa cosa. Sovrapposti per fare l'interno aver sinonale, Ciao!